Sve come a me, vio bacio a rosa, e' novoi amici, donata se naprašo, e' novoi uržendo, e' la vita per me, e' come sa' domani. Questa e' stata una parte di quello che stiamo facendo da ste strade, che state facendo con i percentuali, questo è un prezzo in piu, per ricordare la gente in questo posto, e sentirci in una comunità, come ci siamo riusciti, ci siamo riusciti forse con comunicazioni, con un piano anche simbologico di leggerezza, però di sostanti contenuti. Gli agueri si rapprofano pure della canzone che gli altri hanno fatto per loro. E' quello stesso concetto dell'altro, quello che è stato calato dall'alto, avviene gente che prova a calare dall'alto qualcosa, invece no, ci raccontiamo noi e non diciamo quello che stiamo facendo. Alla un'altra maniera, che c'è già solo a conoscere daffero, insomma c'è anche noi e noi stessi. Esatto.